Al prossimo episodio E' una meraviglia la sua genialità Pavolosa ci conquista la sua genialità Tutto può esaudire la sua genialità Quando balla ci conquista la sua genialità Genialità! Aladino e la lampada meravigliosa Sabato 9 novembre alle 21 e domenica 10 novembre alle 15 e alle 18 in doppia replica Al Teatro Super di Valdagno Info e prevendite su progettoeventi.it e presso le prevendite abituali Questa è Baghdad Milleuna notte di storie fantastiche Questa è Baghdad Terra d'Oriente che ti stupirà Tra le nostre mura Fascino e cultura E' una grande civiltà La mia Baghdad E' una grande civiltà